Ciao ragazzi, oggi facciamo i biscottini da tè. Ci servono 208 g di farina, 150 g di burro morbido, 20 g di figola di patate, un uovo intero, una bustina di vanillina o estratto di vaniglia in bacca e 67 g di zucchero avvero. Poniamo il burro morbido in una ciotola e lo montiamo con delle fruste elettriche o di una planetaria. Poi aggiungiamo l'uovo intero e anche questa volta montiamo sempre con le fruste. Poi aggiungiamo anche lo zucchero a velo e continuiamo a montare con le fruste o la planetaria. Mescoliamo la farina con la figola di patate e l'aggiungiamo gradualmente al nostro composto di burro. Infine aggiungiamo la vanillina. I nostri biscotti sono pronti per essere formati. Ora li possiamo infornare a 180 gradi per 12 minuti. Intanto facciamo sciogliere il cioccolato a bagnomaria e una volta sciolto con esso ci decoriamo i nostri biscottini. Sono pronti per essere mangiati. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividetelo. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima!